Ciao a tutti, oggi parleremo di come calcolare il guadagno in dollari americani per quello che riguarda i post che voi avete scritto su Steemit. Iniziamo col dire che sarete in grado di ottenere il guadagno dopo sette giorni dalla pubblicazione del vostro post e il vostro guadagno sarà inserito nel vostro wallet, quindi nel vostro portafoglio, dopo aver confermato la riscossione del vostro guadagno attraverso il pulsante riscuoti le ricompense. Diciamo in generale che molti utenti fanno l'errore, commettono l'errore di pensare che il ricavato di un post sia già in dollari americani. Ma quelli sono dollari di Steemit, le cose non stanno come l'utente potrebbe pensare, a meno che in quel particolare momento lo Steem Dollar abbia appunto un valore di un dollaro americano sul mercato internazionale. Per aiutarci a capire un po' ad orientarci possiamo controllare la tabella di calcolo che è stata creata da Alex Zichi e che potete scaricare tranquillamente attraverso il link che vi inserirò nel sottopancio. Per poter utilizzare questo link dovrete avere installato nel vostro PC Excel oppure Calc di OpenOffice. Dunque, nel momento in cui voi aprite la tabella dovrete inserire manualmente tre valori nei campi colorati appunto di giallo. Vediamo quali sono questi tre valori. Il primo valore è il valore Steem Dollar, il secondo valore è il valore Steem, il terzo valore è il valore del guadagno che trovate in calce al vostro post. Per conoscere il valore di Steem e Steem Dollar sul mercato in questo preciso momento dovrete controllare su Coin Market Cap. Vi inserisco i due link diretti nel sottopancia. Dunque, al momento della pubblicazione di questo articolo e di questo video, lo Steem ha un valore di 5,39 dollari. Quindi lo Steem ha questo valore di 5,39 dollari. Mentre lo Steem Dollar vale 7,21 dollari. Vi inserisco anche gli screen relativi a questo valore. Inseriamo i due valori suddetti nei rispettivi campi della tabella. Dopodiché inseriremo nel campo Payout Post il guadagno presente nel nostro post, quindi il guadagno in calce al nostro post. Nella fattispecie avremo guadagnato 141,6 dollari di Steem. A questo punto schiacciamo il tasto invio dalla tastiera e in basso sulla destra, accanto alla voce totale, potremo vedere l'importo espresso in dollari americani del nostro post. Quindi potremo vedere effettivamente quanto il nostro post vale in quel preciso momento. Nel nostro caso, che abbiamo preso in esame, i 141,0 dollari di Steemit valgono effettivamente, sul mercato americano, mercato internazionale, 434,29 dollari. Naturalmente, più lo Steem dollar cresce, più cresceranno anche i nostri guadagni. Purtroppo è anche vero il viceversa. Vi lascio tutti i link relativi alle informazioni nei sottopancia, come vi ho già precedentemente detto, e vi auguro una buonissima serata. Ciao ciao a tutti da Alessandra.